Grazie a tutti. 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 conquist motionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ingentissime risorse per indennizzare i proprietari delle reti di tutti i comuni. Avrebbe architettato la morte del genero facendolo investire da un'auto per ottenere il risarcimento dall'assicurazione. Con l'accusa di omicidio volontario premeditato i carabinieri di Bari hanno arrestato Anna Masciopinto, suocera della vittima, il fratellastro di lei Vito D'Addabbo che guidava l'auto che ha ucciso il 24enne Girolamo Perrone e il pregiudicato Rocco Michele Caringella. Le indagini coordinate dalla procura di Bari sono partite dopo l'incidente stradale avvenuto sulla provinciale Adelfia Cassano delle Murge il 5 ottobre 2016. I militari trovarono sul posto D'Addabbo, conducente della Fiat Punto responsabile del sinistro, il quale riferì di aver investito un pedone che aveva improvvisamente attraversato la strada. La vittima morì dopo alcuni giorni a causa delle gravi ferite riportate. Incontro questa mattina all'interno del Dipartimento di Chimica tra docenti e stakeholders, confronto prezioso per costruire il futuro dei nostri giovani chimici. Ce ne parla Ilaria Delvino. Incontro e confronto col mondo del lavoro oggi all'interno dell'aula magna del Dipartimento di Chimica. L'Università ha incontrato gli stakeholders, scambio prezioso tra docenti e imprese, per scoprire insieme come rimodulare l'offerta formativa. La ragione è presentare la nostra offerta formativa, i nostri corsi di laurea e ricevere dalle parti sociali ovviamente le impressioni, i suggerimenti, le riflessioni e le indicazioni per modificarle e adattarle ovviamente al mondo del lavoro. La chimica è una scienza che studia la struttura della materia, le sue proprietà e le sue trasformazioni. Nonostante il carattere trasversale di questa disciplina, intrinsecamente interconnessa a molti altri settori della ricerca scientifica e il suo fondamentale contributo per il miglioramento della qualità della vita, negli ultimi anni in Italia gli iscritti alla Facoltà di Chimica sono sensibilmente diminuiti, cosa che fortunatamente non accade nella nostra città, assicura il direttore del Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari, Francesco Fracassi. Quello che serve ora è evitare che i nostri brillanti giovani chimici scappino via dal nostro paese e in particolare dalla nostra regione. A volte, diciamo, ci si lascia prendere semplicemente dai luoghi comuni, Università XY famosissima e allora si pensa che un laureato di quella università sia un'eccellenza. Io ritengo invece che dovrebbero valutare i laureati di qualsiasi università e quindi non solo dell'Università di Bari allo stesso modo, andando a vedere in effetti qual è la loro preparazione. Se facessero così probabilmente avremmo tante belle sorprese. Open Day dedicato alla digitalizzazione all'interno della scuola secondaria di primo grado Falcone Borsellino. Scopriamolo insieme nel servizio di L'Area del Vino. Una scuola al passo coi tempi. I frutti della digitalizzazione i ragazzi li raccolgono alla Falcone Borsellino, scuola che nasce nel rione Stanic di Bari e raccoglie nei suoi ampi spazi un concentrato di tecnologia a portata di ragazzo. Aule laboratoriali, app, giornate interamente dedicate alla digital innovation come quella di oggi, iniziativa che si inserisce all'interno di una tre giorni nazionale alla quale aderiscono tutte le scuole d'Italia con una vocazione digitale. Scuole che hanno scelto di innovarsi, implementando gli strumenti di apprendimento tradizionale con quelli contemporanei. È una realtà che è andata crescendo in questi ultimi anni, proprio perché alla luce di tutto quello che ci veniva detto a livello di istruzione, quindi del MIUR e del mondo europeo, ci rendevamo conto che i primi forzi a lasciare la nostra terra sono proprio i nostri ragazzi e forse anche di qualche quartiere particolare. Per cui importantissimo era essere al passo coi tempi. I nostri ragazzi dovranno avere le stesse opportunità di tutti gli altri ragazzi, quindi investimento nelle tecnologie, nelle metodologie alternative o perlomeno più coinvolgenti, quindi praticamente classi aperte, classi laboratoriali. Fuori dalla fissità delle aule, fuori dai vecchi schemi, l'apprendimento alla Falcone Borsellino incontra dinamicità, confronto e socialità. L'aula non è più uno spazio chiuso nel quale i ragazzi trascorrono l'intera giornata in un susseguirsi statico di lezioni. L'aula diventa uno spazio tematico che il ragazzo raggiunge a seconda delle discipline che dovrà studiare. A questa novità si aggiunge quella delle aule digitali. La Falcone Borsellino ne ha ben cinque e si prepara a convertire tutte le altre. Ciascuna di queste dispone di un pannello interattivo. L'esperienza didattica non è più la stessa. L'informazione termina qui. Vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it Ed ora vi lascio al meteo. Ben trovati a un nuovo aggiornamento meteo. Diamo uno sguardo alla giornata di venerdì. È sempre un via vai di veloci perturbazioni sull'Italia, quindi il fine settimana sarà molto dinamico. E di fatti nuovo guasto del tempo in giornata sulla parte tirrenica, regioni centrali, estremo nord-est, con i colori blu, qualche veloce piovasco, qualche debole precipitazione. Andiamo di fatti a vedere la mappa della nuvolosità. Ci conferma una giornata con nubi in aumento sui settori tirrenici, ma poi anche regioni centrali, estremo nord-est, più schiarite invece sull'angolo nord-occidentale. Qui giornata probabilmente asciutta, non malaccio. E di fatti anche la grafica seguente ci conferma una giornata con delle schiarite sulla parte nord-occidentale, i fenomeni sull'arco alpino più settentrionale e le piogge, quindi qualche piovasco a macchie di leopardo occasionale anche tra Toscana, Lazio, Campania, Calabria Tirrenica, più schiarite e più asciutti invece sull'atrio adriatico ionico. Temperature oltre i 12-13 gradi su tutto il centro-sud Italia e giornata ventosa. Aggiornamenti come sempre sull'app di Trevi Meteo. Aggiornamenti come sempre sull'atrio.